Il Comune di Silvia ha presentato il programma estivo ricco di eventi con il concerto di RAF come evento clou. Tra luglio e agosto la città ospiterà 65 eventi tra spettacoli e concerti distribuiti su tutto il territorio. In questo modo la città si prepara ad aglietare residenti e turisti nel corso dei mesi più caldi dell'anno. Sicuramente siamo fieri, è la conseguenza di un anno di lavoro che è partito appunto con l'ascolto degli operatori. Quindi credo di aver colto tutte quelle che erano le indicazioni, i feedback degli stessi. Quest'anno avremo grandi eventi dedicati ovviamente negli spazi congrui che sono quelli di Silvia Marina. Ma non ci scordiamo che oltre a RAF, Venerus, Biagio Izzo, Cacioppo, DJ Prezioso, La Notte Blu, c'è anche un programma dedicato ad alcune zone di Silvia che negli anni passati non avevano visto le attenzioni secondo me dovute. Questo riguarda il complesso delle Duni dove avremo la Gaming Week, una festa per tutti gli amanti delle console, avremo il Country Fest, poi ci sono i programmi da storici che sono quelli dedicati a Silvia Paese e in più in un'unità quest'anno ci saranno diversi eventi anche in Piazza Indipendenza che si trova praticamente nella Contra delle Pianacce. Questo non è un caso, è una volontà dell'amministrazione quella appunto di garantire un'equa distribuzione delle manifestazioni di cui sono particolarmente orgoglioso. Per gli appuntamenti più attesi il concerto di RAF il 19 luglio in Piazza di Pini, lo spettacolo dell'artista napoletano Biagio Izzo in programma per il 27 e la presenza del comico Giovanni Cacioppo il 28 agosto. Saranno 5 gli eventi di cartello, si parte con il 19 luglio con un evento di portata si spera molto grande con RAF, poi il 27 luglio avremo un evento di cabaret con Biagio Izzo, poi a seguire ad agosto una tappa del Diorama, un festival itinerante della nostra zona che farà tappa con l'evento forse più importante con Venerus per abbracciare i ragazzi più giovani e poi continueremo con Giovanni Cacioppo ancora per gli eventi di cabaret e riproporremo la Notte Blu quest'anno con una grossa novità preziosa direttamente da Radio DJ.